Federindo, guarda, su Amazon ha ordinato questa fascia nera. Hai visto che figa? Tra un po' arriverà il palco, sì. Hai ragione, Scorpio, è proprio figa da quello che ho visto. Sta arrivando qualcuno. Ciao ragazzi, che si fa? Aia, niente, stavamo facendo i fatti nostri, ma adesso puoi andartene. Va bene, va bene. Dwindle, è arrivata la tua, Scorpio, è arrivata, come si chiama, la tua fascia. Vado ad aprire. Sì, vado ad aprire. Ti vado ad aprire. Hai visto che è bella? Sì, è bellissima, guardala, è proprio quella che desideravo. Già. Ti piace? A me sì. Dai, adesso non vedo l'ora di provarla. Va bene. Mi aiuti? Sì, certo. Vieni, vieni con me, vieni. Arrivo. Camera. Con me da. Anche.